Qui mi hanno detto è l'ultima razza, quella della cessione del 40% delle quote e ci arriveremo, però non la votano oggi per lo meno quello che è arrivato a me, ovviamente io non è che il favolo di dentro Vogliamo entrare, vogliamo entrare Vogliamo entrare, vogliamo entrare Vogliamo entrare Entrare, vogliamo entrare Vogliamo entrare Dentro l'assemblea di Talete mi hanno detto Comunque oggi non si vota la cessione del 40% delle quote societarie L'eventuale cessione è un estrema razio la cui decisione sarà rimandata in ogni modo ai consigli comunali Questo è quello che abbiamo detto Vogliamo entrare Una grande folla fatta di impiegati della provincia e del comune fatta dei vari consiglieri fatta con a capo il sindaco Arena E' venuto fuori da questa giornata che la mobilitazione paga Assolutamente la mobilitazione paga Quindi noi dobbiamo organizzarci ora per continuare questa battaglia a Viterbo ma anche in tutti i consigli comunali dove già abbiamo le nostre delibere approvate dobbiamo far forza su queste Ai consigli comunali facciamo ancora più casino perché allora queste cose funzionano Questo non è giusto mettessero lì loro ricarico di impresa a favore di questa realtà e delle bollette dei cittadini Considerato che ultimamente, recentemente invece sono state approvate delibere contrarie quelle appunto del divieto l'ingresso dei privati dobbiamo mobilitarci per rendere operative quelle Grazie a tutti Grazie a tutti della partecipazione Cerchiamo di andare avanti con forza Alla prossima Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti